Salire tutti, De Rossi chiede l'appoggio del pubblico, voleva battere con calma il calcio d'angolo, invece è battuto in fretta, arriva al traversone di Dotti, Vucinic e Milko! Vucinic, 1-0! Anch'io pensavo fosse stato un errore batterlo velocemente, invece ha sorpreso la Lazio, disattenta, sono arrivati da dietro in velocità e hanno messo dentro questa palla molto bene sul secondo palo. Battista ha fatto gol e non Vucinic, è Battista! Battista sul primo palo! Gol dunque della bestia, Battista! Grande anticipo sul primo palo di Battista e gol dell'1-0! Ha avuto ragione Totti, ha voluto battere veloce questa palla, è Battista! Battista, molto bravo, molto bravo ad andare in anticipo, non dare molta forza, ma solo precisione a questa palla, sfiorarla sul secondo palo, se non trovava la porta c'era Panucci pronto a spingerla dentro questa palla. L'avevamo detto però Fabio che poteva essere pericolosa la Roma sul gioco aereo e così è stato. Gol di Battista!